Allora ragazzi, un buongiorno, come state? Scusate la mia capigliatura un po' così ma appena mi fermo, appena mi fermo perché tra poco mi fermo, sono partito alle 10 meno un quarto di ieri sera, quindi massimo l'una io mi devo fermare perché avrò finito le ore di impegno, anche prima se non termino le ore di guida. Allora, buongiorno, ebbene sì, sono ripartito, partito di nuovo, ho fatto di nuovo il corriere, questa volta sono alla Fercam di Roma e quindi sono partito ieri sera alle 10 meno un quarto da Mantua, poi sono andato a completare il carico a Campo Gagliano vicino Modena e sono sceso, sono partito alle due e mezza di stanotte, mi sono fatto tutta bella la nottata a guidare per essere qui alle otto e mezza a Roma. Allora, 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 quindi ho rifatto il corriere. La cosa non è che mi piace più di tanto, però c'è da dire anche un'altra cosa. Allora io ieri pomeriggio sono arrivato a tanto va alle 13 più o meno e lì mi sono fatto, mi sono, ho fatto le nove ore di pausa tranquillamente e ho dormito, perché ho dormito, sennò come cazzo faceva guidare stanotte, ho dormito sennò forse tre ore, tre ore. Quindi ho mangiato alle 13 ovviamente, ho pranzato, ho fatto il primo, il secondo, il contorno e il dolce. Avevo da mangiare nel camion e quindi mi ho approfittato per fare un pranzo completo, visto che avevo tempo. Poi ho dormito e poi ho fatto le mie cose. Sono ripartito quindi alle 10 meno un quarto da Mantua, sono arrivato alle 11 meno un quarto a Campogalliano e lì sono ripartito alle due e mezza, quindi mi sono fatto altre tre ore di pausa e ho dormito un'oretta più o meno. Mi sento, mi sento riposato. Certo, non ho fatto, non ho fatto le, la solita dormita notturna, però mi sento, mi sento comunque riposato. Allora, la cosa, però volevo un attimino lanciare una, come si dice, una freccia in favore del guidare il notturno. Decisamente io se dovessi fare tipo lavorare con la Bartolini, con queste linee che fanno sempre il notturno, ma mai poi mai la farei. Quindi questo è poco ma sicuro. Se capita, una volta ogni tanto ci può stare, anche perché mi fu detto in fase di colloquio che io comunque era previsto che ogni tanto ci si guidava la notte. Ora non lo so se io farò sempre una volta alla settimana il notturno, però per ora sono l'ultimo arrivato e mi adeguo. Comunque dicevo, fare un lavoro di autista solo con la linea notturna non lo farei mai. Però c'è anche, dicevo, c'è anche da dire lanciare questa lancia in favore del notturno perché il notturno non c'è un cazzo di traffico. Si viaggia che è una bellezza e quindi questa è la cosa positiva del notturno. Infatti parecchi lo preferiscono perché il notturno ti evita del traffico che durante la giornata lo si trova. Quindi questo è un fattore che non sono io a ora a dirlo, non sto scoprendo l'acqua calda, però ecco, volevo comunque virtualizzarlo. Infatti io sono partito alle due e mezza e... alle due e mezza, sì, alle due e mezza e quattro... fu un quattro ore, quattro ore, sì, quattro ore e dieci. Stavo già a... avevo superato Orte ed ero a venti chilometri dal... da qui da... da Felcam di Roma. Roba che se io questo tratto da Campo Gagliano a Dopo Orte, con quattro ore e dieci non ci sarei mai arrivato, secondo me. Ecco, secondo la mia poca esperienza non ci sarei mai arrivato perché a Firenze avrei trovato sicuramente del traffico. C'erano dei tratti che comunque... a due corsie e... a due corsie che comunque... sì, era possibile fare il sorpasso, non c'era il divieto, però con il traffico che durante il giorno fare il sorpasso richiede un po' più di tempo. Invece durante la notte viaggiano al 90% solo camion, quindi tu quando ti trovi davanti un camion che va più... più... meno veloce di te in un niente metti la fleccia e lo superi. Invece durante il giorno devi aspettare che non viene nessuno per un po' di... di chilometri e quindi poi... ti puoi adentrare nel... nel sorpasso. Quindi questa è la cosa positiva dal... dal notturno. Certo, c'è da dire comunque sono più i lati negativi che i lati positivi perché mo' io entro l'una, mi devo fermare, e poi posso riprendere alle 10 di sera. Sicuramente, ora, in base a cosa farò, cosa mi diranno di fare, mi regolerò sulla ripartenza perché non mi va di poi di di nuovo di guidare la notte. Infatti anche la settimana scorsa dopo aver fatto il notturno con arco poi sono ripartito, ho fatto 14 ore di pausa. Quindi sicuramente anche questa volta andrà a finire che farò 14 ore, 15 ore in modo tale da potermi... di poter ritornare all'abitudine di guidare non dalla notte ma bensì, che so, alle 4, alle 5. quindi questa è quello che volevo comunque sottolineare. Ora, questi qui della Fercam ancora non hanno iniziato a scaricarmi, mi hanno detto di mettermi qui sotto ribalta però ancora non mi hanno scaricato. Qui alla Fercam di Roma c'ero già stato c'ero già stato la seconda settimana di Ginevrino lo ricordo benissimo quel giorno, era il 21 aprile infatti sono andato poi a rivedere dalle cose mie che mi scrivo ed era il 21 aprile del 2021 ed ero qui al venne di notte mi ricordo che per trovare la Fercam mi persi pure ed erano le prime anni quindi fu molto complicato anche parcheggiare invece adesso, onestamente parlando quindi sapevo dove era quindi non mi sono più perso ora, attendo che finiscano di scaricare devo chiamare l'ufficio trasporti in Calabria e mi deve dare l'altro viaggio però prima, prima devo andare al parcheggio qui a Roma e c'è una novità devo lasciare questo mezzo perché c'è bisogno di fare la revisione quindi in occasione faccio aggiustare qualcosina che non va bene tipo questa cosa qua, questo appoggia non si mette bene va tutto giù e io mi fa male il braccio che lo tengo sempre non lo posso appoggiare c'è da fare questo c'è da fare le frecce il sensore della ruota anteriore e poi cos'altro c'è da fare ora vedo un attimino cos'altro c'è da fare così quando lo vado a riprendere la settimana prossima mi hanno già detto me lo trovo bello sistemato e soprattutto pulito quindi mi daranno un Volvo mi hanno già detto mi daranno un Volvo e ora vi aggiornerò su questo cambio di trattore c'è da fare una riparazione delle riparazioni anche al rimorchio visto che ci vado le lo dico così poi vediamo se lo riescono a fare oggi stesso oppure la prossima settimana che vado a riprendere il mio Mercedes lascio sto rimorchio e me ne danno un altro così lo ripariamo pure il rimorchio ragazzi tutto qua vi volevo aggiornare ora vediamo se riesco a farmi un caffè e poi ci si vede e poi a lui mi fermo e faccio una bella doccia e mi diverso nuovamente ok? è la cosa positiva anche dal notturno che poi tu non fai sempre il notturno quindi io ho modo comunque di farmi quelle 14-15 ore di pausa per ritornare all'abitudine del guidare di giorno e quindi hai comunque tutte queste ore che oggi mi lavo faccio di nuovo il primo il secondo il contorno il dolce il caffè la mazza caffè e poi mi posso dedicare alle mie al mie hobby e niente dormo sicuramente dormirò e basta vabbè raga grazie buona giornata e dai che siamo a giovedì dai 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 forza forza grazie